Buona giornata amici di Rossoneri di nuovo da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube, vi invito a lasciare un bel like qui sotto e iscrivervi in questa zona, attivate la campanella, mi raccomando numerosissimi, arriviamo a 100 mili iscritti, dai ragazzi, forza, 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 sempre con entusiasmo e passione, tutta Rossonera. Questa mattina un video che ci tengo qui a vedere perché è uno special video con Fabrizio Rotta e il suo montaggio con una possibile rivoluzione, un video anche con il campetto animato e quindi alla fine di questo contributo se vi va potete guardarlo, vi metterò il link, basta rapigiare. E' una sosta, la sosta dopo una sconfitta è lunga ragazzi, è passato soltanto un giorno, devono passare ancora diversi, però dai, impariamo dagli errori e guardiamo quanto di buono fatto comunque in questa prima parte, bisogna migliorare sì, però abbiamo tutto per farlo. E pensare anche positivamente a rientro perché appunto avremo anche Leao che è un giocatore fondamentale per il Milan e il top player, io l'anno scorso dicevo Leao diventerà, chiudo scusa, un qualche acciacco, nulla di serio, diventerà il top player della Serie A perché vedevo questa linea di crescita continua, ma sovrapponibile con la linea di crescita del Milan e vedete insomma che abbiamo avuto credo un'osservazione, una previsione abbastanza aderente alla realtà. Leao l'altro giorno ha mancato, sì, Krunic ha fatto bene, sì, con caratteristiche ovviamente diverse, più equilibratore, meno talento irresistibile. Pensate che con Leao il Milan ha una media di 2,3 punti a partita, molto alta, senza Leao la media scende a 1,4, quindi ogni volta che manca Leao di media manca un punto in classifica e quindi ha un peso specifico notevole. Lui adesso è impegnato con la sua nazionale e avrà le partite con Repubblica Cecca e Spagna, l'ultima con la Spagna martedì e rientrerà poi mercoledì a Milanello per preparare la gara di sabato 1 ottobre che racconteremo qui appunto su Milanello, sul nostro canale YouTube, sulla nostra community, la vivremo insieme, sperando possa essere subito una vittoria magari fermata con reti di Leao perché no a De Ketelare. Vedremo anche come andrà con la sua nazionale per capire se il giocatore irresistibile con la maglia del Milan lo è altrettanto con la maglia del Portogallo. Fin qui no, tant'è che io in qualche mio editoriale, in qualche video ho detto, caro Rafa, al Milan sei un fenomeno, nel Portogallo sei quasi uno dei tanti. Poi magari adesso ho fatto lo step e lo verificheremo nelle prossime due partite, ma non è facile perché comunque davanti Cristiano Ronaldo, che non è più forte di lui, ma è più stella, è bandiera, leader e quindi chiaramente la competizione interna al Portogallo non è semplice. Il tema futuro. Nella giornata di sabato abbiamo fatto un video riprendendo un'indiscrezione che arrivava dal Daily Express riportata anche dai Sky Sports UK, secondo cui Leao avrebbe rinnovato il contratto con il Milan e avrebbe detto no alle lusinghe di Manchester City e Chelsea oltre Manica. Ragionando insieme a Voce Alta abbiamo ipotizzato che quella è stata una risposta del suo entourage Jorge Mendes a almeno uno dei due club che poi è arrivata al quotidiano inglese ed è stata diffusa. Ovviamente bisogna prenderlo con le pinze, il mercato, la prima regola del calcio mercato è viverlo con serenità e soprattutto prendere tutto con le pinze per forza di cose, perché quello che oggi è bianco poi diventa nero, poi diventa magari rosso nero o diventa trasparente e viene cancellato. Effettivamente quella indiscrezione ha oggi un seguito importante anche in Italia. Ad esempio questa mattina sulla Gazzetta Erosport a firma di Luca Bianchin che ritengo essere un collega molto preparato, molto bravo e oltre che un bravo ragazzo, cosa che non guasta mai, scrive che Leao ha fretta di firmare un nuovo contratto. Risulta effettivamente, ne abbiamo parlato anche noi, e questo è un primo lato positivo, che lui non voglia arrivare alla scadenza, non voglia arrivare a guadagnare 1,4 per quest'anno, siamo soltanto all'inizio, siamo appena a settembre, e per l'anno nuovo. Perché sapete che sul suo cielo, azzurro, c'è una nuvola nera, e l'azzurro col nero non sta bene, che è quel risarcimento che lui deve allo Sporting di mal contati 9 milioni di euro. Che, seppur parliamo di un giocatore milionario, che diventerà ultramilionario, è un fastidio, anche a livello psicologico, ovviamente. Perché se resta con quel contratto, da qui alla prossima stagione guadagna circa 3 milioni di euro, mentre con un rinnovo potrà guadagnare tanto, tanto, tanto di più, moltiplicato, moltiplicato. Lui vuole restare al Milan, questa è la prima, è la seconda notizia, la prima notizia è che non vuole arrivare a scadenza, anche per questioni economiche, perché non gli conviene, e perché deve pagare. La seconda buona notizia è che lui vuole restare al Milan, dà priorità al Milan. Mi direte, quanti, tanti l'hanno dichiarato e poi sappiamo come è andata a finire, vero? Vero, finché non c'è il rinnovo, finché non c'è la spunta verde, non bisogna ovviamente fare voli pindarici, ma finché non c'è neanche una firma, una cessione, non bisogna neanche vederla negativamente. Lui ha sempre dato priorità al Milan, attualmente dà priorità al Milan, quindi dice Milan va bene, sediamoci a un tavolo, i contatti con il suo agente sono continui e vedranno una fase di intensificazione nelle prossime settimane, e cerchiamo di rinnovare il contratto. Questa è la seconda buona notizia. C'è però una terza, che è una brutta notizia, perché rappresenta un pericolo, perché il Chelsea, comunque sul giocatore ci è stato quest'estate, ha presentato una manifestazione di interesse respinta al Mittente dal Milan, comandini che l'ha sempre dichiarato incedibile, e non gli ha tolto gli occhi di dosso, anche se, secondo la stampa inglese, degli experts nella fattispecie, ha ricevuto un 2 di picche, sentendosi dire che lui vuole rinnovare con il Milan. Però è sempre lì, e è probabile che se non si arriverà al rinnovo di contratto entro fine anno, tenterà di tornare alla carica su Rafa Leao a gennaio. Ora, a me sembra improbabile che se il giocatore non rinnova possa andare via a gennaio, con il Milan anche nel bel mezzo della stagione, vuole provare a vincere lo scudetto e vende il suo giocatore migliore. Mi sembra un controsenso, per questo se non rinnova credo che più probabilmente andrà via la prossima estate. Però, rispetto ai preoccupazioni e pessimismo, ultimamente c'è un po' più di fermento. L'acquabolle, e queste bolle sono una buona notizia per il Milan, che sa che non bastano più 4 milioni e mezzo che offriva pre-Vocini, Invescorp e poi Redbird, ha fatto sapere di poter alzare l'offerta, arrivare anche a 5 milioni e mezzo 6, lui ne chiede 7, quindi è un margine non eccessivo, e se fosse soltanto questo, diremmo, ci sono buone chance di trovare l'accordo. Perché se balla un milione e mezzo tra la distanza offerta, in una via di mezzo l'accordo si trova. C'è il problema però che è un altro, cioè che lui deve dare questi 9 milioni. Questi 9 milioni non li vorrebbe dare attraverso lo stipendio, ma vorrebbe che il club che gli farà firmare il prossimo contratto, gli andasse incontro, dando una sorta di bonus alla firma rinnovo di 9 milioni di euro che lui poi girerebbe allo Sporting, così che non sia lui poi a pagare il risarcimento, ma indirettamente il club Milano-Cessi che gli fa firmare il nuovo contratto. Su questo aspetto capite che 9 milioni di euro non è poco. Non è poco, anche perché la gente comunque vorrebbe anche una commissione. È chiaro che non si può avere tutto, quindi bisogna trattare su questo aspetto soprattutto. Con il Milano che magari dice io te ne do 6, tu non ne prendi più 7, te ne do 5 milioni e mezzo 6, ti posso dare dei bonus, oppure non i 9 milioni di euro, te ne do 4 e mezzo, metà. Questa potrebbe essere una via di uscita. Se non ci fosse questo maledetto risarcimento, credo che sarebbe tutto più semplice. Con questo maledetto risarcimento, Leao prova a fare i suoi interessi, prova a spuntare ovviamente più soldi, perché comunque lui oggi 9 milioni di euro sul conto non credo che li abbia. Con il prossimo rinnovo supererebbe quella cifra, sarebbe più sereno, però non vorrebbe rivedersi togliere appunto 9 milioni che incasserebbe. Insomma, è una situazione un po' ingarbugliata, però devo dire che rispetto rispetto a fine estate c'è un po' più di fiducia che va presa con le pinze. Vi dicevo, ad agosto, quando tanti parlavano della trattativa, non ci sarà rinnovo a fine agosto, se ne riparerà a settembre, e Cardinale proverà a confermarlo quasi ad ogni costo. Il fatto che lui comunque dia priorità al Milan ragazzi è una buona notizia, è il segnale che il giocatore, come diceva Valdini, sa che per crescere deve rimanere al Milan e sa della bontà del progetto. Tra l'altro lui, anche sui social, è molto rosso-nero. Dopo la sconfitta con il Napoli, lui è assente, ha scritto, siamo grandi, non importa l'entità della sconfitta e nella prossima partita torneremo più forti per perseguire i nostri obiettivi. Siamo grandi, ovviamente è giusto che dica così e ha un grande comunque senso di appartenenza. Per questo ragazzi, le prossime settimane sono davvero decisive, molto decisive. La mia sensazione è che il rinnovo arriverà entro fine anno o al massimo come linea temporale finale, come scadenza, febbraio-marzo inizia ad essere tardi. Se non rinnoverà entro quella data, è probabile che il giocatore andrà via la prossima estate al Chelsea, ad esempio, piuttosto che al City, vedremo chi si affaccerà. in questo momento però il Borsino vede una crescita delle possibilità che rinnovi il contratto, anche perché il Milan, dall'altra parte, è brutto da dirsi, ma lo possiamo dire, il Milan gli può dire allora tu resti qua fino a scadenza, non importa se vai via a parametro zero. A quel punto il giocatore però ci smena tanti soldi e per i prossimi due anni guadagna 3 milioni quando con un rinnovo con il Milan a 6 potrebbe guadagnarne 12 che sono 4 volte tanto e potrebbe incassare anche una parte di quei 9 milioni di euro. Capite che anche il Milan ha le sue carte, ha il suo ricattino brutto da definirsi però in una trattativa non si guarda in faccia a nessuno ovviamente. Vediamo che cosa succede e ripeto, le prossime settimane saranno decisive su questo fronte. con credo Cardinale che farà di tutto per confermarlo. Questi gli aggiornamenti ragazzi, vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi qui, attivate la campanella, venite a seguirci anche su Instagram andreolomonicoSWS Milanello Live e vi invito anche a iscrivervi al mio secondo canale, sono molto attivo, in questo caso non è il canale community è il canale personale, parlo di tutto, anche di Milan ma anche delle altre e del grande calcio. Qui sotto c'è il link basta cliccare. Un abbraccio e leao fai la cosa giusta cioè rinnovare con il Milan.